ed eccoci ragazzi lunedì 21 febbraio 2022 ben ritrovati a tutti voi con l'appuntamento odierno di buongiorno razziali prima di cominciare con quello che è il nostro consueto video giornaliero vi invito come di consueto ad iscrivervi a tutti i nostri social che vedete appunto indicati qua sotto vi ricordo sempre di di supportarci e di guardarci quando andiamo in diretta anche su laziolive.tv mi raccomando il progetto che si pone davvero l'ambizioso traguardo da raggiungere ossia quello di creare un palinsesto video basato su appunto contributi di canali di youtubers amatoriali che parlano di lazio un modo per offrire un qualcosa in più appunto a tutti voi e speriamo sia cosa gradita per quanto riguarda forza lazio web tv trovate tutte le informazioni chiaramente in descrizioni vari link che possono servirvi per abbonarvi ad appena un euro e 99 oppure per acquistare su amazon tramite il nostro link di affiliazione trovate davvero tante tante indicazioni in tutti i nostri video contenuti appunto su forza lazio web tv ma entriamo nel vivo di questo di questo video di questo video odierno è passata la notte ci abbiamo un pochino pensato sopra su quello che è stato il match di ieri e la domanda che ci poniamo e che ho posto anche nell'immediato post partita chiedo scusa per la ripetizione del gioco di parole è come vedere questa partita di ieri è un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto che tradotto vuol dire la lazio ha fatto ha registrato i progressi ha confermato i progressi che ha mostrato in questi ultimi due mesi di campionato oppure ha sprecato una ghiotta occasione allora partirei subito da questa seconda lettura chiave di lettura mi spiego meglio abbiamo sprecato questa occasione che si è venuta a creare visto il pareggio della 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 roma in casa contro il verona visto la sconfitta dell'atalanta in quel di firenze visto il pareggio della juventus nel derby di venerdì contro il torino andiamo un pochino a pesare i vari fattori come si presentava la lazio a udine almeno io nel mio piccolo in fase di presentazione del match nei video dei giorni precedenti penso che avevo dato il mio pensiero sì era una partita che sulla carta la lazio doveva provare a vincere ma era una lazio che si presentava comunque smembrata nella sua rosa titolare ma anche nelle alternative ed è qui la chiave di lettura più preoccupante legata a una concomitanza di infortuni e squalifiche ad oggi un giocatore come lei va è assolutamente indispensabile nell'economia di una squadra ad oggi luiz alberto è un giocatore indispensabile nell'economia di questa squadra così come lo sono ad esempio immobile così come ad esempio lo è pedro e proprio su pedro dobbiamo andarci a focalizzare in questa nostra riflessione perché neanche un quarto d'ora di partita che ieri una lazio già di per sé disastrata nei titolari e nelle alternative perde un pezzo fondamentale come appunto pedro e oggi speriamo di avere risponsi che in qualche modo ci possano tranquillizzare in merito alla durata dell'indisponibilità del giocatore perché dando per scontato che non giocherà giovedì non sarà disponibile la mia speranza voglio essere ottimista è che nella gara di domenica contro il napoli nella difficilissima trasferta di napoli quanto meno possiamo avere anche se a mezzo servizio comunque già riaverlo a disposizione pedro sarebbe fondamentale detto tutto questo nell'economia della partita di ieri in cui la lazio dopo dopo 25 minuti in cui ha sbandato pesantemente in cui l'approccio alla partita è stato assolutamente pessimo la lazio ha ingranato la marcia guarda un po te il caso facendo fronte all'assenza imprevista dell'infortunio in corso d'opera di pedro perché dico questo perché è uscito pedro è entrato cabral si è quindi spostato a destra felipe anderson e in qualche modo la partita di pipe e di conseguenza della lazio ha subito un brusco cambiamento in senso positivo perché felipe anderson ha cominciato finalmente di nuovo a strappare sull'out di destra imbeccato spesso da milinkovic supportato spesso da marusic ha puntato sistematicamente l'uomo sistematicamente lo saltava o in alternativa veniva sdraiato calcio di punizione cartellino per il giocatore dell'utinese felipe anderson che ha regalato almeno tre assist di pregevolissima fattura al subentrante cabral cabral dico la vi dico la mia ragazzi allo stato attuale improponibile ma sarri è stato costretto a metterlo dentro cabral cabral si è trovato almeno tre volte davanti la porta imbeccato da da felipe anderson un felipe anderson in almeno un paio di circostanze troppo altruista perché secondo me poteva davvero forzare anche la conclusione a rete anziché provare il l'ultimo passaggio per cabral cabral è piantato sulle gambe pesantissimo fuori condizione che colpa ne ha questo ragazzo veniva da praticamente due mesi di indisponibilità e chiaramente le colpe di questo ragazzo non ce ne sono bisogna prenderlo così com'è poi chiaramente mentre vado a parlare di cabral mi viene in mente ancora una volta le assurde dichiarazioni nel pre partita di titare che insomma in qualche modo vado a riassumere la lazio alle alternative immobile beh l'abbiamo visto ieri ragazzi no ieri abbiamo scoperto che se da una parte felipe anderson ha le caratteristiche per essere un vice immobile felipe anderson il suo ruolo dove riesce a dare il meglio di sé il massimo del suo rendimento di sicuro non è nel ruolo di centrale d'attacco bensì nell'esterno sinistra o destra che sia preferibilmente destra ecco queste sono le varie chiavi di lettura da fare la lazio adesso paga lo scotto pesantissimo di un calcio mercato ancorato su cosa su quale fondamenta è stato ancorato il calcio mercato del nostro grande di essere del nostro presidente sul fatto di dire speriamo che ci dice culo che immobile che mirinkovic che luiz alberto che acerbi che luiz felipe ramos non si infortunino mai da qui a fine stagione parliamoci chiaro sono queste le fondamenta sul quale si è basato il mercato della lazio beh chiaramente ragazzi mi sembra chiaro che stiamo parlando di fondamenta fatte di sabbia di nulla appena appoggi il piede sprofondi non di centimetri ma di metri perché fondamenta non ce ne sono ecco quindi continuo almeno io personalmente da tifoso a sentirmi preso in giro dalle continue assurde e folli dichiarazioni di un ds che sembra vivere in un mondo tutto suo assolutamente assente da quello che è il mondo lazio e il contesto della lazio in campo è come se lui non vivesse il campo è come se avesse abbandonato sarri a se stesso e chiaramente poi subentra un altro tipo di ragionamento fino a che punto ha le colpe sarri di tutta questa situazione beh ragazzi mi sembra abbastanza chiaro che c'è un concetto c'è un termine sul quale sarri spinge in maniera forte da settimane che è arrangiarsi e già questo dice tutto quindi in questo punto di vista abbiamo visto il bicchiere mezzo pieno spostiamoci nell'altra chiave di lettura che vi dicevo in apertura di questo video il bicchiere mezzo pieno se da una parte è mezzo vuoto in alcune letture dall'altra è mezzo pieno in che cosa è mezzo pieno sul fatto che la lazio finalmente ha dimostrato nonostante le fatiche delle tre partite di settimanali di esserci fisicamente o quantomeno di saper mascherare bene i momenti di mancanza di stanchezza la lazio è chiaro ad esempio che ieri nell'ultimo quarto d'ora è andata in corto d'ossigeno ma questo nulla toglie che la lazio ha fatto fronte a questo grazie alla sua struttura di gioco ed è un processo che io ho spesso evidenziato in corso di cronaca nella partita di ieri e che lo stesso sarri nelle sue dichiarazioni del post gara ha confermato quale è il grande segreto di questa lazio quando la lazio non è in grado di fare il suo gioco e di andare a pressare no nell'area avversaria ma nella tre quarti campo avversaria la lazio arretra il proprio baricentro si fa proprio aggredire anche nella propria area di rigore dagli avanti dell'udinese in questo caso si fa aggredire richiama a sé la squadra avversaria in modo che cinque sei elementi entrino nella metà campo bianco celeste a quel punto la lazio fa forza sul fraseggio rapido dei suoi giocatori grandissima tecnica su questo non c'è dubbio spingendo soprattutto sulla parte destra dove viene azionato il duo milinkovic che scala a prendere palla richiamare palla e si porta dietro uno se non due marcatori dietro di sé la grande tecnica di milinkovic permette lo scarico del gioco 90 volte su 100 su felipe anderson 1 2 tra loro e si riparte in veloce progressione magari azionando cataldi che cambia fascia per zaccagni che è completamente solo e quindi si va a attaccare l'udinese è successo anche nella gara col porto ecco la lazio ha questa chiave di lettura quindi è una lazio che quando non c'è fisicamente quando accusa questi break fisici è una lazio che gioca d'astuzia in questo modo rifiata col palleggio fitto nella propria area di rigore come vi ho detto poco fa richiama l'avversario a sé poi riparte velocemente facendo circolare la palla a più non posso qual è l'aspetto positivo di questo che la lazio ieri ha fatto 50 minuti di grandissima partita è entrata male approcciato malissimo alla gara c'è stata purtroppo quella lettura errata in difesa in cui sono onesto non so proprio esattamente a chi dare la colpa e anche in questo sarri è stato chiaro nel post gara ha detto ragazzi quello che è accaduto nel caso nel caso del gol che abbiamo preso è una mancanza non di basi del mio modo di far calcio appreso dalla squadra ma è una mancanza di dettagli che la squadra non ha avuto modo di studiare perché tempo non ce n'è sarri ha detto chiaramente che qualora avesse avuto modo nell'arco di questa stagione di avere più settimane piene come quelle passate fino a due settimane fa avrebbe potuto lavorare negli ulteriori dettagli arricchire le fondamenta e le basi sulle quali ormai non abbiamo dubbi la squadra le ha apprese vanno adesso arricchite si cerca di andare il più vicino possibile alla perfezione insegnandoli i particolari alla squadra e il gol di De Lofeu che abbiamo subito ieri purtroppo è andato a ficcarsi a colpirci proprio in quel particolare difensivo che la squadra non è riuscita a studiare perché tempo non ce n'è stato detto questo la Lazio ha sbandato per una mezz'oretta poi però è salita in cattedra il paradosso è proprio come vi dicevo poc'anzi con Felipe Anderson spostato a destra Felipe Anderson che ieri per distacco per quanto mi riguarda è stato il migliore in campo perché poi alla lunga è salito anche un Milinkovic che è stato pessimo per mezz'ora vedete quando dico i giocatori cardine di una squadra si accende Anderson si accende Milinkovic e la squadra poi prende in là Zaccagni ormai una costante ad esempio ecco detto questo il bicchiere è mezzo pieno perché la Lazio ha riuscito a reggere il match non ha bucato il terzo match settimanale è importante soprattutto a livello mentale perché adesso la Lazio ha la consapevolezza di poter reggere i tre match settimanali ma adesso voltiamo pagina quindi bicchiere per quanto mi riguarda mezzo pieno perché perché va pure fatto un peso di quanto di cosa abbiamo assistito l'udinese non ha fatto niente se non il gol un'azione subito dopo il gol e poi quel questo va a bilanciare quindi a dirmi che mi prendo questo pareggio nonostante i tanti rimorsi in ottica classifica il l'incrocio dei pali preso da Molina al 92esimo minuto pensate un po' se quella palla fosse entrata di qualche centimetro sotto anziché andare a colpire l'incrocio dei pali ecco bisogna essere obiettivi e onesti quindi per quanto mi riguarda facendo la pesa delle situazioni il bicchiere cerco di vederlo lo so che a molti due questo già farà rabbia però io cerco di vederlo mezzo pieno per tutto quello che vi ho detto anche per un briciolo di fortuna che riguarda l'incrocio dei pali preso dall'udinese è una lazio che forse in questi 50 minuti in cui ha dato tanto di sé poteva anche finalizzare meglio sì assolutamente però se andiamo a fare una pesa dobbiamo essere obiettivi e dire che è un risultato giusto e visto tutto quello che vi ho detto per quanto riguarda il mio personale parere questo è un pareggio da prendersi assolutamente con positività nell'ottica futura mancano ancora tante partite prima della fine del campionato della stagione 12 adesso però la lazio deve trovare la forza mentale di concentrarsi partita per partita a me che domenica c'è sta il napoli non me ne frega niente adesso concentriamoci sulla partita di giovedì ci sono tre giorni mi auguro che oggi la lazio non faccia riposo totale ma quantomeno un lavoro di scarico per poi lavorare in maniera pesante martedì e mercoledì rifinitura giovedì mattina e giovedì sera si scende in campo mi auguro ci sia una grande cornice di pubblico anche perché la lazio è venuta incontro ai tifosi con dei con dei prezzi assolutamente accessibili già vi dico da adesso che noi avremo il nostro inviato direttamente dallo stadio olimpico che risponde al nome di cristian gasperini quindi forza lazio web tv ci sarà con questa ragazzi mi fermo qua ditemi la vostra nei commenti mettete mi piace iscrivete ma soprattutto oltre ad iscrivervi attivate le notifiche per tutti i nostri contributi andando sul canale sul canale youtube attivate la campanella e cosa importante regalateci oltre le vostre anche le visualizzazioni di chi secondo voi potrebbe essere interessato a questi contenuti facendo cosa semplice condividendo sui vostri social quelli che sono i nostri contenuti video la stessa cosa vi invito a farla ribadisco ancora una volta con quello che è il nostro sito ufficiale lazio live punto tv chiudo questo video ricordandovi che qualora voi foste interessati a collaborare con noi ad entrare nel mondo lazio vivendolo a vostro modo condividendo pensieri insieme a noi dello staff e quindi proprio entrando a pieno regime scrivendo articoli partecipando se lo gradite anche ai nostri video ai nostri live ragazzi c'è la mail info chiocciola lazio live punto tv potete scrivere la contattarci in privato faremo una call conoscitiva vedremo se ci sono le basi per partire con questa collaborazione vi ricordo anche che ad ora non in futuro ma per ora si tratta di collaborazioni assolutamente gratuite perché qua dindi come si dice a roma non ce ne sono si cerca nel nostro piccolo di costruire una struttura importante che poi magari col passare del tempo possa in qualche modo ricalare qualcosa anche in termine renumerativo a chi ci dà un supporto vi saluto ragazzi vi mando un abbraccio aspetti i vostri commenti a questo video mettete mi piace vi mando un forza lazio con tutto il cuore e vi auguro una buona giornata da manual è tutto ciao a tutti